Buongiorno, mi chiamo Cinzia, ho conosciuto Cristian perché ho iniziato ad avere problemi di glutine, ho da sempre la passione per la cucina, mi piace torte, dolci, mi piace un sacco di cose. Ho fatto il corso perché quando mi hanno diagnosticato che dovevo mangiare senza glutine, i prodotti al supermercato non mi soddisfacevano, non mi soddisfacevano perché sapevano di molto chimico. Cercavo dei corsi però è stato difficile trovarli. Cristian invece ti fa entrare in un mondo nuovo, ti segue, ti aiuta, ti fa conoscere farine, cereali, un metodo nuovo di mangiare, di cucinare. Ti è vicino, ti stimola perché comunque poi quando inizi a fare i piatti unici ti viene voglia anche, ti viene la fantasia di provare anche altre cose. E vi dirò che questi piatti unici sono soddisfacenti, ma non solo per noi che siamo intolleranti a glutine, anche per gli altri componenti della famiglia. E non solo, conoscere le farine come, perché farine senza glutine ce ne sono infinite, ma se non le conosci non le sai usare. E in un mondo in cui siamo abituati ad usare quelle con glutine, di certo le altre sono poco conosciute. Invece lui ti insegna ad utilizzarle, a conoscerle, ad impararle. E' un corso che consiglio a tutti, perché Cristin è veramente bravo, è veramente una novità e una cosa unica, che ti fa fare un percorso piacevole, divertente e simpatico. E vi saluto, ciao a tutti!